Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere la nuova passe in tungsteno di Nash la pubblicità che comunque verrà fuori, sarà alquanto, non dico bizzarra, però comunque di uso comune nel termine italiano cioè appiccicosa come merda sotto le scarpe, chiunque di noi ha pestato una merda e al di là della fortuna che non è vero niente, comunque se è pestato una merda è solo sfortuna comunque questa pasta in tungsteno è veramente appiccicosa e anche in inverno comunque è molto malleabile non importa riscaldarla e si può comunque vedere da questa, si può fare un primo piano per piacere infatti se si muove guardiamo che comunque la pasta è talmente malleabile, talmente appiccicosa che su qualsiasi filo, anche ai lati, rimane appiccicata, appunto come merda ci sono tre colorazioni, il verde, tipo l'alga, marrone, tipo fango, melma e altrimenti il nero grigio, simile di colorazione delle rocce oppure di ghiaia è un prodotto che ci abbiamo messo un po' di tempo per svilupparlo però sicuramente ne vale la pena, può essere utilizzato su varie piattaforme anche sui terminali per appesantirli e appunto anche sui terminali morbidi ci saranno quei fastidiosi angoli che vengono fuori durante un lancio oppure con l'acqua che casomai filtra su piccole infiltrazioni ecco questo qui è il tungstenno di Nash Kling On ciao a tutti